La ex fornace Frazzi, che giace in stato di abbandono da tanti anni, sarà finalmente oggetto di un intervento di recupero grazie a un finanziamento al Comune di Cremona pari a 2 milioni di euro. L'intervento dovrà essere condotto con attenzione per garantire un buon restauro conservativo, a chiederlo è l'architetto Angelo Garioni dell'Associazione Cremona Comera, che auspica che tra le mostre delle associazioni che il Comune ha già indicato per la struttura Recupero Ultimato possa trovare spazio a una esposizione ben più preziosa e sconosciuta, quella dei cotti medievali e rinascimentali di Cremona, pezzi accatastati e dimenticati da troppo tempo nei depositi del Museo Civico, senza un'adeguata valorizzazione. È una bellissima notizia perché finalmente si sistema la Frazzi, che era stata abbandonata forse in modo un po' scandaloso e anche negli anni Ottanta il restauro che era stato fatto non era proprio l'ideale. Con questi 2 milioni sistemiamo la Frazzi, che è un'area importantissima della città a Porta Po e poi ho letto tra le carte che verrà finalmente insediato il laboratorio del Cotto, che è molto importante per noi cremonesi, perché io ricordo che nell'Ottocento l'industria tessile, quindi le filande e l'industria del Cotto, in particolare dell'atterizio, erano le industrie principali di Cremona e del Cremonese. Dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo come spazi e anche creare un laboratorio del Cotto che si è aperto alla città, lo era già. Poi sarebbe ideale, secondo me, recuperare i cotti del Museo Civico. Purtroppo negli anni 90, con l'estauro Piva, si è deciso di fare solo una pinacoteca e tutti gli altri materiali sono finiti nei depositi. Vorrei ricordare che tra questi materiali finiti nei depositi ci sono i cotti, i cotti cremonesi che qualche anno fa il Museo del Louvre è venuto a studiare perché volevano fare una mostra a Parigi. Parlai con questi studiosi, mi dissero voi siete matti a tenere questi oggetti preziosissimi, perché i centri del Cotto sono fondamentalmente Cremona e Lodi, in Lombardia, chiusi in depositi con polvere abbandonate a se stessi.